Andiamo al segno del toro. Amici del toro, tutto sommato una giornata interessante, bella, positiva, c'è questa luna che transita nel segno del sagittario, è una luna ideale per chi vuole ricominciare, per chi vuole davvero tagliare con un certo passato, per chi è stanco di certe situazioni lavorative, professionali, ma anche sentimentali o familiari e vuole in qualche modo rivoluzionare la propria vita. Ecco, questa luna me ne dà la possibilità, è una luna che parla di metamorfosi, di cambiamenti, di rinnovamenti, di rigenerazione per quanto vi riguarda, è vicino a Saturno, quindi vi chiede grande saggezza quando poi decidete di allontanare delle persone o cambiare indirizzo da un punto di vista lavorativo e professionale. Proprio i rapporti sentimentali in questo momento vi stanno dando anche delle grandi gioie, vi danno delle grandi opportunità, però bisogna sempre valutare. Non basta solo la passione, sappiamo che voi siete un segno che fa della solidità la propria ragione di vita e quindi le persone chiaramente che decidete di affiancare a voi nel percorso della vita devono essere persone dotate di serietà e solidità. Andiamo al segno dei gemelli.